che plebboi quel ciccio due ragazze e lui conquista tutte e d'altronde non potrebbe che essere così dati i suoi occhioni Giorgia è sempre qui ancora poco disponibile a contatto con l'uomo si rilassa ha un suo gruppo un suo piccolo branco con il quale è molto legata e sono i figli di Priscilla e la sua amica del cuore Siria con loro si relaziona perfettamente ma è poco disponibile a contatto con noi ecco le due sorelline siamesi Giorgia e Siria riprese con una lucertola finalmente Giorgia può fare la sua vita da ragazza ecco e io sto facendo un video e davanti a me c'è Ciccio ma io devo inquadrare loro perché volevo mostrarvi come Giorgia finalmente può fare la sua vita da cane spensierato seppur ancora infassidito dalla presenza dell'umano però ora è rilassata nel suo branco di amici come è giusto che sia speriamo che presto con il tempo prenda maggiore fiducia e diventi un cane adottabile Giorgia è bellissima ed è la mamma dei nostri maremanini uno di loro è stato adottato altri sono ancora in cerca della loro famiglia per sempre e io i video ve li faccio sempre da qui perché se no mi saltate sul canino e mi rompete tutto il mio relè Giorgia è un fratello acquisito è vero Roger? è stato acquisito come fratello ormai e Burro è qui da un po' più di tempo anche lui molto giovane comunque è nato poco prima di Natale e lo trovammo nella scatola di Burro a Natale sono tutti qui Tyson attira non mi viene il nome dell'altra femminuccia Roger Roger era stato in stallo ed è stato portato qui da poco tempo ma si è inserito perfettamente nel gruppo sono bellissimi stanno crescendo sono arrivati ormai a circa cinque mesi questi tre ragazzi sono i figli della bellissima Giorgia uno di loro Mugli è partito felicemente adottato e loro sono ancora qui il loro lecito è stato allargato è stato sistemato è comunque uno spazio momentaneo e dovranno trovare la loro casa a roggere un po' più piccolino simil mare in mani di futura taglia media medio grande per loro desidereremmo un giardino con la possibilità di accesso nella casa e questo lo chiediamo per tutti compagni, giocherelloni tutti molto sereni ed allegri vivaci, pieni di vitalità e di salute ciao bellezza ciao bellezza ciao ciao roger questo è un nuovo modo di bere ci intingiamo anche le zampe dentro è vero? si beve meglio così, è vero? è vero? ma hai buttato l'acqua in faccia facciamo attenzione questo splendore è vero? è vero? beve meglio così, è vero? è vero? è vero? Grazie per la visione!